Ragazzule ragazzule, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video Oggi siamo qua con una sfida veramente succulenta dove ci sono in palio molti, molti, molti che scettini E ora vi spiegherò di cosa sto parlando Praticamente ragazzi, mentre che ora è live streaming su Twitch, che peraltro vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni dall'ora 17, link in descrizione Stavo giocando delle ranked in lobby a Real e una ragazza che mi segue da tantissimo tempo mi ha proposto una sfida La sfida era molto semplice e molto chiara Se avessi fatto la vittoria reale in ranked in Real, lei mi avrebbe donato ben 100 abbonamenti al canale Che ragazzi, 100 abbonamenti al canale costano esattamente 500€ Che attualmente con lo sconto di Twitch costano 400€ Quindi una donazione assolutamente estrema Chiaramente questa ragazza la conosco, quindi sapevo che non stava trollando ma che fosse seria E quindi ho cerato la sfida e io insieme al mio due mate ci siamo impegnati al massimo per portare a termine questa sfida E ragazzi, alla fine è successo veramente l'impensabile Quindi ragazzoli, mi raccomando, vedi di cominciare con questo video Lasciate subito un bel pollice in su per supportare la vostra gamer preferita E vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto Perché se no potrei arrabbiarmi in una maniera ovviamente incredibile Inoltre mi raccomando, se volete supportarmi nello shop di Fortnite Inserite il codice creatore Coratomist Taggatemi in una storia su Instagram e se acquistate qualsiasi cosa Così che vi andrò a fare il repost e vi manderò anche un ringraziamento in DM Ora però ragazzi dire di non perderci più in cacchiere e di passare al video challenge Io vi auguro una buona visione C'è un team, non mi renderizzo ma c'è un team sicuro Ah no, allora sai forse per dove sono, per lo yacht Ho trovato un baretoro, what the fuck Gigi, è win Ma che c***o dici, Virg? Che c***o messo a Dio, ho No, Virgida, non dire c***o, la m***a si è messo God Cerco di capire se è vera, ma ma è impossibile Ma cosa è così? Sì, ti dico, sono una cosa, vinciamo il game C'è, la conosco È affidabile, anche se mi sembra troppo Se win, 100 sub Andiamo a boxare Ok, ma che c***o dici, Virgida, ma sono troppe Ma stai pazzo, stai No, dai, è impossibile Cioè, so che tu sei matta se dici una cosa la fai Però mi sembra troppo, cioè Ti compro il cavo nome delle cuffie, se vuoi Aspetta, non ho niente io Certo, salve, quella win, sì, è fuori di testa Io ho un medikit e due fortatili, cosa ne pensi? Stai trullando Io ho tre big, tre mini Gente qua Ah, fanno il bug Eh, ma È un solo, vuole rebuttare Ah, questi vore che involano La gente è in macchina 150, chissà che io ho fatto Eh, c'è snipe Ancora in volo Lanciato tutto lì C'è un altro team lì con la macchina che ha rebuttato a stima No, no, Virgida, io non comando nulla, Virgida Fai tutto tu, cioè E ovviamente puntiamo a vincere, a prescindere Cioè, lanciarazzi Vuoi portare lanciarazzi o portare c'è chi no? Gli fai lo sniper Se vuoi portare lanciarazzi o portare c'è chi no? Non 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 c'è chi no? Vabbè, dai Oh, mi Dio, mi sarà frittato il video game Quanto 600 alla macchina comunque è già vita 21 white è quella E l'altro è arrivato 50 delle esplosioni Ma io mi avvicino ma non ho grappler Slips non è morto Vabbè, dai Ora non esageriamo, eh Eccolo 24, 24, doppio C'è fai tanto il bro Ma è un altro team? Non so, è uno, però Quell'Aran 2 sono ristata Io? Docente Vabbè, da gg Che f***o non avere grappler, te lo giuro Oggi proprio non Oggi non neanche intiro l'avevo mai Era sempre l'unica s*****a a non averlo Non è vero Che c***o Non piccani bro Mi voglio avvicinare un po' però Io barretterei la macchina per sicurezza Ok Così non scappano Ma non le RPG anche loro, sì Sì Ma le soltate Io lo rompo È sotto, è sotto, non è sopra Te lo posso far cadere Posso farti cadere se vuoi Sale l'altro Cento, crack Doccio i mini Vuoi legger armi Sono qua Hai boxato questa? Boxato, è morto Nice L'altro è full low Sì, lo vedo Si volta un kit Lancia Razzi e Barrett Faccio qua, vado Andato qua La macchina La macchina Traccata Lo scioppo Vole arrampicarsi il Grapp Mi che è un genio Però hai tirato Ho preso il pavimento Qua è un genio Non so scherzando Cioè Grappler ha coltogli Ha tirato Lancia Razzi Per aggrapparsi col Grappler Vabbè Voleva fare una cosa Che vi hai fatto anche tu Reload Ti ricorda? Sì, però c'è il mentre scappi così Il genio Ah, forse erano Nelle staccionate di ferro Forse Guarda la macchina Eccolo Eh, del moro Se la rompi in volo Se la rompi in volo Cioè Se c'è 600 Io ho fatto 24 doppio Non ho tanta vita Uno in volo C'è un'altra macchina in volo L'ho noto, la rotta Craccato Rtg Andiamo sulla zona Andiamo sulla zona Non vi fate questi Andiamo attimo Intanto quello lì sta andando Voi ci chiude davanti 5 Vabbè dai gg Ma cosa stai dicendo? C'è un'altra Sì, sì, lo so 30 Qua Lasciamolo fuori safe Non gli serve neanche Non può fare nulla Ma Fai due Tre poche in teoria Vado a prendere i mazzi di queste Ma un medico snipe In volo Ma vera Ma che cazzo Ma lo Ma ti giuro Dal mio popolo non sembrava Vabbè dai Gli stai citando Dai Sì Stai citando Sì, non è possibile Puscia, puscia, cracata È dato che in questo Sì Morto Era solo In caso dimmi Che posso fare Le pg srpga Ok Lì sono appena Buildate le build E questi qui? Non so C'è qualcuno fa Voglio fare Non gli faccio nulla Al ferro No, no, no Ci si vuole troppo Sì Ok È un solo 40 Cento C'è la roba Mi Stipo Hanno un arc No, cadono No, cadono Io Forse Anche da sinistra Dietro Sniper Sì, sì Sì, sì Sì, sì Dove Ci si C'è la roba Sto accelando Hai preso Il finish L'ho preso Ah no È ancora qua L'ho preso io Mi serve una mana Preso minimo Scendo È qua sotto Nelle build L'altro è qua davanti Tipo È fronte L'altro Sì, sì Io ho levato a uno Guarda qua Uno è qua fuori Safe Fato cadere Non so Certo Vado col grappler Quello Da sopra Ci vogliono grapplare Attento Eh, dobbiamo andare in zona Sì Scendo Scendo un po' Due grappler Io mi butto e faccio grappler Provo Vado sul tetto 20 20 anch'io RPG Sto fai lui Sto fai lì 20 Sono sopra sempre Prossima torna un po' Crackato, crackato Uno di vita Sto mando C'è uno di vita no però Crackato RPG se vuoi 35 vai Carico, carico Mi ha scelto fu la trabacca a muare Mi morto Sto i video Sono troppi alberi Sì Ditto, led Led? Blockato Ah, gg dai Serio, serio Levo gli alberi Guarda lì Puoi fare Crackato Nice Vai, vai, vai Questo, morto Nice L'ultimo Vado i RPG Sale Non ce l'ha fatta Salva la tutta Mamma mia Non ci credo Quindi Virgi deve sganciare Quattro Io te lo dico Anche perché Lei non è una che trolla Nemmeno in 3x cup Abbiamo tardato così Ragazzi Cioè, te lo giuro In 3x cup Piuttosto Non abbiamo fatto Guarda Cioè, onestamente Perché abbiamo la sfida Delle 100 sub Qua Vabbè, dai gg E a me mi sa che non è arrivata la sub Gg Ma l'ha gifto io Cioè, che c***o C'era Greco che stava cittando col Barrett Cioè, porca bui Cioè, era lì che Penso di non aver mai visto Farmare Greco in ranked Mai Sei Greco quando fa le ranked Ok ragazzi 10 build Le ne andiamo a fufficciare Virgi, sei in chat? Ragazzi, mi fate nuovamente Uno spam di cuori Per la signorina Virgi Che ha donato 104 sub Ragazzi Ha fatto veramente La pazza scatenata Io ancora non ci sto credendo A questa cosa Vi rifato un altro spam Di cuoricini per lei Che se lo merita tutto Che ha fatto una donazione pazza Veramente Veramente pazza Cioè, io sono ancora sconvolta Non riesco Non riesco a fare niente I am still Sconvoltated Virgi Grazie ancora di cuore Patatina mia Per il supportone Veramente gigante Veramente Veramente Insano Patata Non so veramente Cosa Ma come esagerata Virgi Ma tu dici a me esagerata Quando l'esagerata Qua sei tu Ma cosa dici? Bene ragazzi Siamo giocati a termine di questo video Come avete visto Abbiamo portato Con successo A termine La nostra sfida Perché abbiamo fatto Una bellissima vittoria Io e il mio Dometto Ci siamo impegnati Ragazzi Che nemmeno A una finale Delle FNCS Ve lo giuro Abbiamo fatto una win Spettacolare Lui ha fatto delle Stemperate Veramente pazzesche E mi sono portata a casa Ben 100 abbonamenti Nel canale Quindi una donazione Veramente gigante Io peraltro Volevo ringraziare Ancora una volta La signorina Virgi Per questa donazione Veramente immensa Che mi ha fatto Davvero Grazie 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 mille Se avete visto Prima nella parte Di ringraziamenti Del video In realtà Ero un pochettino Scioccata Perché era anche Sera tarde Quindi non potevo gridare Non avevo la voce Ero anche influenzata Però ovviamente Poi ho fatto un ringraziamento Di tutto rispetto Mentre ero in live Su Twitch Che peraltro Vi ricordo che mi trovate In live Tutti i giorni Dalle ore 17 Quindi mi raccomando Passate anche solamente Per un saluto Link in descrizione Che dire ragazzi La challenge È finita con Estremo successo Io vi ricordo Se l'avete ancora fatto Di lasciare un bel pollice Ne so a questo video Se l'avete ancora fatto Ed iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Ora però ragazzi Noi ci dobbiamo salutare Ma non vi preoccupate Perché chiaramente Ce ne becchiamo In un prossimo video Dalla vostra Croatomist È tutto Bella a tutti ragazzi Ciao